Al via i lavori per il recupero e la riqualificazione dell'ex caserma Berardi a Chieti, un progetto pilota in Italia di Federal Building all'interno di un sito militare il cui accordo di programma è stato sottoscritto nei giorni scorsi dal sindaco di Chieti Umberto Di Primio. E' una buona notizia per la città e una buona notizia per l'Abruzzo perché questo progetto, che è un progetto pilota sul quale stiamo lavorando ormai da anni, finalmente inizia a farsi vedere, cioè si iniziano a poter apprezzare i lavori, i cantieri, quello che veramente dà il segno del cambiamento di una struttura che era destinata, la ex caserma Berardi, ad essere un luogo abbandonato a se stesso, invece diviene, non all'infavitare per la città, diviene un luogo che può creare economia, nuova economia per una parte della città, ma soprattutto ci consente di mantenere sulla città di Chieti una serie di uffici, di uffici periferici dello Stato che avremmo rischiato in questa generale revisione della mappa degli uffici sul territorio nazionale di poter perdere, ancor più, devo dire, con soddisfazione in quell'area verrà anche realizzata la nuova sede del liceo scientifico, quindi una scuola moderna sotto il profilo della sicurezza all'avanguardia e tutto questo ci fa dire che quell'area, quella della cittadella pubblica amministrazione, potrà diventare il nuovo poro attrattivo dell'intera comunità teatina. Non avete tralasciato neanche i dettagli, proprio per consentire i lavori avete assunto dei provvedimenti per la viabilità e per consentire che questi mezzi pesanti possano circolare. Sì, noi abbiamo da tempo sollecitato l'inizio dei lavori e speriamo che i lavori vengano non soltanto presi in carico da lunedì ma possano speditamente andare avanti. Per far questo come amministrazione abbiamo prima e da prima agevolato tutte le procedure urbanistiche perché si potesse arrivare all'affidamento dei lavori e oggi ovviamente ci facciamo parte dirigente perché chi dovrà lavorare in quell'area lo possa fare in massima sicurezza e in modo agevole. Grazie. Grazie.